Ecco, rispetto al fatto che si torni a discutere in realtà, insomma lo si fa davvero di raro in Italia, che la scuola possa continuare anche durante i mesi estivi, insomma un'organizzazione un po' più all'europea, che ne pensate? Beh, noi siamo assolutamente d'accordo. Ora, molti obiettano con questa crescita, con questo aumento delle temperature, la scuola estiva è un controsenso. Beh, ma qui bisognerebbe ragionare per assurdo, perché ormai con l'aumento che ci sono delle temperature, forse dovremmo chiudere anche giugno, oltre che luglio-agosto, chiudere anche settembre, e forse un pezzo di ottobre, perché in questi mesi, ormai abbiamo visto l'anno scorso, c'è un caldo molto elevato. È evidente che noi dobbiamo prescindere dalle temperature, come fare a prescindere? Per esempio, cioè avremmo dovuto utilizzare una parte del PNRR per sistemare nelle scuole degli impianti di refrigerazione e soprattutto, come è accaduto durante la pandemia, degli impianti di sanificazione dell'aria. Però questo è un argomento un po', mi permetto di dire, un po' tabù in Italia, cioè quando se ne parla, ovviamente c'è subito un po' una levata di scudi da parte soprattutto, insomma, di chi poi difende, magari i sindacati difende in questo caso il lavoro, insomma, di chi poi opera nel mondo della scuola. In realtà i ragazzi stanno tre mesi all'asciutto, se non a carico di famiglie o, insomma, centri estivi, di competenze importanti. Io penso che i sindacati dovrebbero ripensare profondamente le loro posizioni, perché, diciamo pure, la questione è questa. Intanto sul piano degli apprendimenti, io credo che ci sia una letteratura pedagogica oggi che dimostra come gli apprendimenti si affermano con una progressione lenta, senza grandi salti e discontinuità. Quindi questi tre mesi, direi che dal punto di vista degli apprendimenti dei ragazzi, e questo a mio avviso è l'elemento dominante, non sono favorevoli, anzi sono fortemente negativi. Ci sono alcuni insegnanti, un po' meno quelli delle superiori, ma direi soprattutto quelli della scuola primaria, che rimangono effettivamente a casa tre mesi. Le ferie sono sempre quelle, 32 più 4 giorni sarebbero 36, però non essendoci attività, di fatto il tutto si trasforma in una progressione di ferie di tre mesi. Ecco, togliere questo elemento significherebbe togliere forse un elemento di appetibilità del mestiere di insegnante. Però questo costituisce un equilibrio che deve essere necessariamente rivisto se il mestiere di insegnante vuole diventare una professione e non una semiprofessione o un mestiere per cui ci sono tre mesi che consentono, oppure diciamo così, un orario di lavoro che pur è incrementato nel corso degli anni, però abbastanza ridotto che consente, diciamo così, altre attività. La professione di insegnante dovrebbe essere quella dominante. Se poi uno ha tempo per dedicarsi ad un'altra professione o dedicarsi ad altre attività, buon per lui. Ma quella professione dovrebbe essere dominante. E io ritengo che molti dei problemi della categoria docente, in primis quelli stipendiali, derivino anche da questo equilibrio che peraltro è negativo da tutti i punti di vista.